Futuro mio, io ho un altro anno di contratto qua, quindi io spero di essere parte della prossima annata e della squadra del prossimo anno e poi vediamo i miei compagni, non so bene le situazioni contrattuali, insomma io spero di poter rappresentare ancora questa maglia Cosa manca alla torno Calibro per il salto di qualità? Ma non tanto secondo me, alla fine deve continuare su questa strada, magari valutare le cose che non sono andate bene quest'anno magari fare dei piccoli accorgimenti di natura tecnica, magari così mentale, non lo so, però insomma alla fine il passo è breve penso